Buongiorno a tutti, sono Giada di Laica Camera Italia e volevo darvi il benvenuto in questa nuova casa di Laica. Oggi, il 23 giugno, inauguriamo ufficialmente il nuovo Laica Store Piazza di Spagna di Roma e siamo molto orgogliosi di questa nuova acquisizione in una zona molto importante di Roma, della nostra centrale, vicino alla Piazza di Spagna. In realtà, Laica è il quinto store di proprietà diretta di Laica Camera Italia, quindi negli anni da quando Laica è nata, Laica Camera Italia è nata nel 2012, abbiamo fatto una crescita molto importante e questo appunto è il nostro quinto negozio di diretta competenza, è il nostro store di diretta competenza è uno spazio di circa 120 metri quadri, una parte dedicata evidentemente alla vendita, è sempre uno store quindi sarà possibile trovare tutti i prodotti della gamma Laica a partire dalle compatte fino ad arrivare ai professionali o alla nuovissima mirrorless professionale Laica Serie, ma avremo anche una parte dedicata dedicata alla parte culturale che comunque alla quale Laica tiene tantissimo, in questo caso stiamo inaugurando con una mostra di Stefano Guindani, con cui stiamo collaborando da un po' di tempo, una mostra dedicata al cinema italiano, infatti sono tutti i ritratti di attori italiani, sono 330 ritratti realizzati da Stefano tra l'altro per un progetto di charity perché il ricavato della vendita del libro che ne è nato da questo progetto verrà devoluto al Policlinico Gimè, è una sala che stanno costruendo al Policlinico e il ricavato al quale siamo contenti e orgogliosi di aver partecipato, verrà devoluto per questa operazione Anche a Roma continueremo le attività non solo culturali ma anche di didattica che abbiamo inaugurato con la nostra Laica Academy Italy che stiamo portando un po' in tutta Italia con i nostri workshop e le masterclass che stiamo facendo in collaborazione con Magnum, quindi Laica si propone al suo pubblico a 360 gradi quindi non solo con i prodotti ma anche proponendo cultura fotografica, la fotografia a suoi massimi livelli con un'attività didattica ma anche e soprattutto con le persone quindi infatti presentiamo i nostri nuovi collaboratori e peraltro la prima store manager donna della quale siamo molto orgogliosi, la nostra nuova store manager del Laica Store Roma Piazza di Spagna e in aiuto direttamente da Firenze ma in questi giorni su Roma Gianluca Leonetti Buonasera Buonasera